Se il salutatore è il più rispettato d'Italia Ciao a tutti dal Salutatore, grandissima sorpresa qui alla Befana del Poliziotto all'Oasi Parche, ospite d'onore Beppe Convertini E abbiamo anche l'applauso Buongiorno a tutti, siamo qua per festeggiare con i bambini perché poi la festa è per i più piccoli e naturalmente non solo i figli dei poliziotti che sono un elemento fondamentale per l'Italia perché ci aiutano a stare meglio perché noi non vediamo mai tutto quello che loro fanno e quindi bisogna festeggiare ora i loro piccoli perché anche loro hanno delle famiglie perché noi li vediamo sempre sulle strade a combattere contro il crimine e sono davvero efficaci e oggi invece sono qua in festa per i più piccoli, per le loro famiglie Per le famiglie di tutti, di tutti i bambini ma loro tutti i giorni combattono per le famiglie e per gli altri e oggi festeggiano con la propria famiglia quindi è proprio bello questo conoscere proprio il lato umano di quello che è il poliziotto che è sempre molto forte, sicuro, grintoso, deciso e che difende le nostre case, le nostre strade difende tutti i nostri diritti il salutatore vi saluta? saluto tutti quanti e ovviamente anche Beppe saluta però io saluto insieme a chi saluta e salutiamo e abbiamo fatto i saluti completi buon anno, buon 2017 a tutti buona Befana a tutti buon 2017 a tutte le forze dell'ordine polizia e tutte le altre forze dell'ordine italiane che veramente si impegnano per noi e viva la polizia ciao a tutti ciao a tutti grazie c'è un carabinere che si è offeso ho detto a tutte